Benvenuti in questo nuovo video, siamo qui a Cala Bernardo Grazie per la visione Siamo a, come potete vedere, l'Otto Da Costanzo Noto Due granite alla mandala e due brioche Si vede? 10 euro Mi sembra un pochettino esagerato Da noi non credo che sia così Ciao Stanzo Ciao Stanzo Noto Allora amici, si narra che questo posto qui E' il bar dove Ficarre e Picone andavano a bere, a cazzeggiare Dove c'era il proprietario Il proprietario era quello dove gli facevano gli scherzi nel film Nati Stanchi Dicono che è questo qui Accanto alla chiesa di San Sebastiano Se non è così, fatemelo sapere nei commenti Abbiamo finito questa giornata noto a Palazzolo Great Ci vediamo al prossimo video Ciao